Ecco qua Gabriele e Caterina con il gruppo della pattuglia verso Zug andiamo verso Zug, vai cate che stavo facendo un filmino vai cà, gira ecco qua Paola Riccardo brava Caterina vai Gabri con un po' di sassi iniziamo seduta addosso seduta addosso e dai e dai e dai e dai